Il nuovo amministratore dell'AMA che succede ad Agostino del Re è il commercialista aquilano Gianmarco Berardi, consigliere d'amministrazione tra le altre cose della Banca di Credito Cooperativo del Gran Sasso. Berardi è in quota Lega, era stata proprio la Lega a chiedere la testa di Agostino del Re. Un professionista competente che in questo momento per la sua professionalità e per i suoi trascorsi tra i revisori dei conti può essere molto utile per la complessa situazione che si trova a vivere l'azienda. Questo è il commento dell'assessore alle municipalizzate del comune Carla Mannetti. Biondi e la Mannetti hanno spiegato che le perdite di esercizio sono ascrivibili ai mancati trasferimenti della regione a partire dal 2016. Però a fronte di una situazione della quale l'amministratore era ben consapevole e in presenza dei conseguenti indiritti da parte dell'ente comunale, nessuna azione è stata posta in essere secondo loro in ben due esercizi finanziari per razionalizzare la spesa. Bilanci in perdita e zero politiche di risanamento, dunque, secondo l'amministrazione comunale, piani di riorganizzazione fatti soltanto sulla pelle dei soli dipendenti. Questa l'accusa. Ama S.P.A. porta infatti un passivo di 1.700.000 euro. Grazie. 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 Grazie.